Io resto a casa. Io resto a casa. Io resto a casa. È vero, è un momento difficile, ma io resto a casa. E soprattutto l'aperitivo si fa in cucina, non nel corridoio. Io resto a casa. Per il bene di tutti. Io resto a casa, fallo anche tu. Ormai si muoce fuori dal balcone. Restiamoci tutti. Io resto a casa e dormo. Ragazzi, io... Ah, resto a casa. Io resto a casa. E stop! Distanti, ma uniti. Siamo distanti, ma comunque uniti. Distanti, ma uniti. Distanti, ma uniti. Per adesso, abbracciamosi virtualmente. Teniamoci a distanza oggi. Per di abbracciarci più forte domani. Per di abbracciarci più forte domani. Teniamoci a distanza oggi. per abbracciarci più forte domani. Andrà tutto bene. raga, vedo troppa agitazione, troppa preoccupazione. Vesta calma, mi dà dove? Andrà tutto bene. Tranquilli. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Pensa positivo, resta negativo. Ciao ragazzi, andrà tutto bene. Non vi preoccupate, andrà tutto bene. State tranquilli. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Tranquillo. Andrà tutto bene. A presto. Andrà tutto bene. Grazie a tutti